Oggi voglio parlarvi di parcheggi, parcheggi gratuiti e parcheggi a pagamento, strisce bianche e strisce blu. Facendo un paragone tra la realtà di Taranto e quella di un'altra città, Riccione. Mi trovo nel centro di Riccione, in viale Ceccarini alta, siamo proprio di fronte al comando della polizia e quindi una zona centralissima. Guardate, strisce bianche e a neanche due metri strisce blu. Si alternano, le vedete? Facciamo rivedere di nuovo. Strisce bianche e strisce blu. A Taranto non è così, cara amministrazione Melucci, cara AMAT, Chima Mobilità AMAT. Proseguiamo. Perché a Taranto deve essere tutto blu, nel blu dipinto di blu? Perché? Per fare cassa, caro Melucci, per far fare cassa l'amministrazione e per spennare i cittadini. Impara, caro Melucci, impara. Guarda qui, guarda. Strisce blu, ho fatto altri due metri. Strisce blu e un'altra fila di strisce bianche. Lo vedete? Strisce bianche. Così il cittadino può, come dire, alternare. Questa è la vergogna di Taranto. Ecco perché, cara amministrazione Melucci, caro Mattia Giorno, Mattia Giorno, ex assessore alla mobilità sostenibile, invece di girare come una trottola in canna di qua e di là per fare il, te lo dico simpaticamente, il paraculetto istituzionale. Impara, vieni qui. Se vuoi ci veniamo insieme, ti offro io un soggiorno, un weekend a Riccione e ti faccio vedere. Guarda, guarda, guarda. Strisce bianche e strisce blu. Strisce bianche, strisce blu. Scusate se mi ripeto. Guardate lì, guardate lì, strisce bianche. Centro di Riccione. Posso dirlo senza tema di smentita, una dei capitali del turismo italiano. Capitali italiane del turismo. Signori, ma perché, caro Melucci, devi spennare i tarantini? Perché Taranto, dall'arsenale, il borgo, dall'arsenale fino al ponte girevole, non c'è una striscia bianca, non ce n'è una. Impara, Melucci, impara, impara a fare il sindaco, che non è proprio mestiere tuo.